Check one, two, check 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 Sono stato a Genova di recente per soli tre giorni, tre, quattro giorni ed è stato un viaggio fantastico, è stato reso fantastico grazie ai consigli che mi hanno dato due amiche che conoscono molto bene Genova è che mi hanno scritto due liste di consigli pazzeschi di posti strepitosi che mi sono piaciuti molto queste due liste le troverai anche in un post che ho pubblicato su emaboshi.net dove troverai tutti i consigli che mi hanno dato e anche i posti che ho provato io Genova è un po' fuori dai radar del turismo classico però dovrebbe davvero rientrarci io ci sono andato ovviamente con il mio occhio da grafico o la mia deformazione o la mia mania da grafico quindi mi sono concentrato molto per esempio sulle bellissime insegne che ho trovato in città e mi è piaciuta molto una mostra sul grande illustratore Emanuele Luzzati che era proprio di Genova e al quale era dedicato un museo proprio sul porto antico di Genova che ora a quanto pare è chiuso ma c'era una mostra temporanea con un sacco di sue opere e dopo ti farò vedere tutte le meravigliose foto che ho scattato lì dentro allora cominciamo dalle insegne volevo farti vedere alcune meravigliose insegne che ho trovato tra cui questa qui addirittura ad oro è molto molto bella con anche la sua versione invece insegna su pietra su lapide non saprei poi sono capitato da questo Pietro Romanengo fu Stefano una bellissima non saprei dire tipo drogheria pasticceria non saprei come chiamarla ma guarda che meraviglia di insegna che hanno ha un sobrissimo fregio che comunque hanno tranquillamente rovinato con questo condizionatore comunque al di là di questo hanno anche una bellissima vetrina dove comparivano queste tavolette di cioccolata che non ho potuto fare a meno di comprare e tra l'altro una di queste ce l'ho proprio qua fisicamente guarda che meraviglia in realtà ne avrei anche un'altra che però è già stata iniziata e quindi non vale tanto la pena quindi questa fabbrica di cioccolato romanengo sono dei confettieri vedi qua c'è un altro tipo di etichetta sempre con questa colomba della pace direi proseguendo c'era anche lì davanti un vassoio meraviglioso di queste caramelle che avrei ovviamente comprato e mangiato tutte e che qui ti voglio mettere bene in grande per farti vedere che figata assoluta che sono c'era anche quest'altro bellissimo vassoio contenitore pieno di gelatine e poi proseguiamo con la nostra ricognizione di bellissime insegne e bellissimi lettering ad esempio questo di carni fresche mi piace moltissimo con anche il suo 3d tutto dipinto e vabbè questa qui è un po' di meno però diciamo che questa macelleria questa scritta carni fresca era molto bella qui fassone piemontese fatto a mano vediamo un po' altri dettagli interessanti poi vabbè questa qui era la gelateria profumo sempre consigliata da Marilisa e Giovanna le mie due amiche che mi hanno mandato queste liste di posti da visitare stupendi e spesso si trovava in giro la bandiera di Genova dipinta molto molto carina soprattutto questa versione dipinta tra i libri usati ho trovato questa copertina davvero molto bella poi c'era quest'altra sorta di grafica sulla vetrina che mi è piaciuta moltissimo con questo dorato queste scritte molto molto complicato tutto quanto molto bello marescotti si chiama questo posto molto bello anche questo tipo di lettering qui dorato che come vedremo più avanti applicano anche usano anche altri altri negozi questa è un'altra foto bellissima di quanto è affascinante diciamo raw come dicono alcuni il centro storico di Genova una bellissima ruota a versione anche diurna un altro dettaglio interessante qui mi piaceva molto questa natura morta con salame probabilmente di legno o plastica non saprei dire un'altra interessante insegna ma più che questo lettering che mi sembra un po' farlocco mi attirava la vetrata il tipo di vetro così con questi angoli un po' smussati ottimo posto anche l'antica sciamada vendita torte e farinate bellissima insegna e buonissimo buonissimo posto anche e poi qui era via via san bernardo direi con questo bellissimo negozio con questo bell'allestimento molto ordinato e molto curato e questa palette cromatica anche mi piaceva molto insieme a questo fregio clamorosamente bello questo invece è un insegna fatta a pennarello volevo giusto citarla questa invece è l'insegna della drogheria Torielli dove invece mi sono trovato benissimo temevo di trovare una fila pazzesca e invece praticamente c'eravamo solo noi ed è stato molto molto bello entrarci dentro qui si intravede il pavimento che dopo vedremo dall'alto questo era all'interno della drogheria Torielli dove ho comprato una saponetta del tè e dello zucchero questo è sempre all'interno guarda che meraviglia tutto fitto di roba cioccolatini, capperi sotto sale c'è di ogni bellissimo mandorle questo è il pavimento molto bello con questo motivo a cubi e questo era il sette polpette dove siamo andati a mangiare ma quello che mi ha colpito è comunque la cura che hanno avuto nel fare un'insegna con la foglia d'oro con il 3D un po' storica anche se è un posto sicuramente molto molto recente questo è un bellissimo palazzo con un raro raggio di sole che entrava dentro i vicoli stretti del centro storico questo è un altro posto dove abbiamo mangiato che si chiama il Sapesta molto 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 carino vedi qua c'è il logo Very Vintage dove con il mortaio dove si pestava il sale grosso per farlo diventare fino questa è la storia che raccontano molto bello l'interno come vedi il tipo molto caldo come vedi questo tipo ha il suo maglioncino deve essere appena arrivato dopo due secondi già non c'era più come noi che eravamo praticamente semi nudi dentro questo è il simpatico nonnino che ci ha servito l'imperdibile coro chinato una specie di martini bianco non lo so una robina da bere tradizionale che abbiamo assolutamente preso vedi il vero coro chinato c'era carino questo questo manifestino aperitivo di gran lusso ecco vino aromatizzato di cui la tipica band genovese ex ottaigo deve avere cantato qualcosa o comunque siamo come Genova deve essere legato in qualche modo a questo posto e questo era il bar al suo interno uno dei miei posti preferiti a me piacciono molto i posti così coi tavolacci le panche e questo era il drink con la sua tovaglia la bellissima stanza vista a tetti dove eravamo che mi è piaciuto da matti un bellissimo mosaico addirittura guarda qua che sbattimento tirar fuori un mosaico di questo genere molto carino molto apprezzato anche le insegne al neon hanno la loro super bellezza questa in particolare era molto curata con i suoi stili con questa scritta obliqua molto molto carina questa invece è di nuovo l'insegna della drogheria Torielli però è un po' più interessante perché è quella laterale come vedi è un po' bombata e ha questa bellissima forma con la scritta Torielli che segue dentro e mi è piaciuta davvero tanto molto bella anche questa che sembrava quasi un posto abbandonato in grosso vini anche questa molto molto bella stessa cosa questa qui Caffarena una bellissima N qui che mi è piaciuta moltissimo questa davvero strana fa parte del ristorante peruviano dove abbiamo pranzato il locale si chiama Asi Esmi Perù però ho come l'impressione che non ci sia scritto qui sull'insegna e una delle cose che mi è rimasta più impressa di questo viaggio a Genova è stata una bellissima mostra sull'illustratore Emanuele Luzzati il suo lavoro è stato per me molto importante quando avevo 18-19 anni quando l'ho scoperto la prima volta e mi ha fatto capire quanto l'illustrazione sia importante non solo nell'editoria ma lui poi ha lavorato molto nel teatro nelle scenografie nella comunicazione e quindi mi sono imbattuto in questa mostra su di lui e ora ti faccio vedere che meraviglia di lavori faceva casomai non lo conoscessi ad esempio questo già ti fa capire un pochino qual è il suo stile come vedi già questo ti fa capire un po' il suo stile illustrativo guarda che meraviglia di pennellata il fatto anche di non di non dover essere per forza preciso mi piace molto anche questo stile di collage molto molto bello mi piace molto questa sua gestualità questa sua espressività ed è stato molto importante capire come si riuscisse a mescolare il mondo dell'arte proprio con l'illustrazione per la pubblicità per la comunicazione anche questo lettering molto molto bello qua sembra proprio fatto con con il collage e questo stile illustrativo super bello con dei carboncini fatto con dei carboncini molto grassi e qui si vede bene il qui sono proprio dei dettagli che ho preso si vede bene il l'uso che faceva delle carte e della foglia d'oro per esempio queste specie di carte non da parati ma da rivestimento di cassetto immagino molto molto bello anche questo manifesto l'ho trovato strepitoso proprio per la semplicità e la potenza che ha lo stile di disegno il soggetto un po' alla Chagall bellissimo praticamente stampa a tre colori mi viene da dire questo nero questo rosa e il giallo molto molto bello anche questo manifesta mi piace moltissimo qui si vede si intravede solamente l'utilizzo del secondo colore che non so probabilmente era diverso dal nero ma qui abbiamo solo il nero oppure si è sbiadito molto non saprei molto molto bella l'idea di fare del lettering a pennello estremamente integrata questo lettering con lo stile dell'illustrazione e mi aveva molto colpito anche la bellezza della sua firma che a quanto pare qui è stata fatta con un font però anche questo praticamente un quadro di fatto con questo acquerello con queste scritte tutte curate da lui a mano una meraviglia assoluta qui invece la firma è autografa anche quest'altro manifesto compagnia dei quattro la bisbetica domata bellissimo il format era abbastanza chiaro anche questo mi è piaciuto tantissimo per l'utilizzo proprio del gesto e dell'irregolarità proprio del gesto qui c'erano anche dei prototipi di allestimento che lui faceva per dei fondali per delle scenografie per il teatro di Genova teatro della tosse non sono sicuro forse guarda che meraviglia questi bozzetti fatti poi davvero tridimensionali come proprio dei prototipi in scala guarda che meraviglia che è questo lavoro qua già proprio solo come opera il pavimento addirittura bellissimo dall'alto erano un po' così questi elementi scenografici da cui sbuccano dei personaggi questa anche era un'altra bellissima bozza un prototipo poi c'era anche una fotografia di questo allestimento centrale super bello qui si vede anche il dettaglio della persona cioè c'è una cura di artistica su questa su questa produzione che mi mi fa impazzire la bellezza anche di questo disegno che mi ricorda anche il primo Warhol quando era illustratore per Vanity Fair disegnava scarpe cioè disegnava nel senso le illustrava questo anche mi è piaciuto moltissimo è un un tovagliolo un fazzoletto una tovaglia un fular non so però è un tessuto comunque bellissimo con tutte queste scritte intorno e questo panorama quadrato di Venezia davvero davvero super super bello ah qui si vede un po' meglio sì perché c'erano questi vetri molto riflettenti questa bellissima spirale qui c'era scritto cinzano al centro serigrafia a due colori probabilmente il blu e il grigio altri pattern che guarda che meraviglia guarda che meraviglia super questo era un arazzo cucito meraviglioso enorme enorme qui c'era un gioco di specchi tipo invece tipo caleidoscopio vedi specchi veri anche qui non so a cosa servisse questa illustrazione ma super bella e questa casa di pelliccia mi faceva molto ridere bellissimo schizzo tra l'altro si vede benissimo anche la mia pelata dietro mentre scattavo le foto e questo è un altro dettaglio delle carte ritagliate incollate lavorare a livelli dipingerle strepitoso anche questo questo ritratto così ora come si vede bene qui il pizzo di carta dorata e questo era lui dipingeva una una sua scultura e a vederlo qua io l'avevo visto forse in una foto da molto vecchio a vederlo qua sembra anche molto un tipo simpatico insomma bene questo è un po' il mio racconto di Genova davvero una città stupenda valla a visitare oppure se l'hai visitata e mi vuoi dire come ti è sembrata scrivimelo nei commenti ricordati di iscriverti al canale come dicono gli youtuber seguimi su insta eccetera eccetera tutto qua ci vediamo alla prossima puntata del diario Boshi ciao